Cerchiamo veramente di fare qualcosa, di pensare anche a Palese, che è dimenticata. Sono oltre un migliaio i cittadini del quartiere Palese che hanno fatto sentire la propria voce al comune di Bari per denunciare i tanti problemi da risolvere. Permane tuttavia un certo scetticismo. Noi tutti qua abbiamo messo le film, comunque il risultato non è uscito di niente, quindi non serve a nulla. Per lei l'urgenza più grave da risolvere qual è? Passaggio a livello, qual è la prima cosa? Qual è la prima criticità da risolvere a suo avviso? Tutto, strade, marciapiedi, lungomare che non va, non c'è una cosa, una struttura. Si dice anche l'ufficio anagrafe dei centri di raccolta? Tutto, tutto. Per l'anagrafe dobbiamo andare a Santo Spirito, è normale? Se si vuole fare una commissione qui si perdono ore e ore solo per trovare parcheggio. E tra l'altro se si vuole uscire in un weekend, in una domenica mattina, non c'è praticamente parcheggio, non c'è modo di fare una passeggiata. C'è spazzatura per le strade, di tutto e di più. Molti infatti chiedono anche un centro di raccolta palese, d'accordo? Sì, sì. Poi dobbiamo andare a prendere noi i sacchetti pure da Santo Spirito, noi siamo ragazzi, però il problema è per quanto riguarda gli anziani. Servirà qualcosa questo appello? Ma non credo, è sempre stato, è una vita, non è questione di adesso.